da posto buongiorno buonasera sono di caprio ciao a tutti bentornati sul mio canale ora sono le luna e mezza luna e mezza mamma mia mamma mia ho sonno anche oggi ho sonno veramente luna e mezza luna e mezza luna e soft no quindy dovrebbero a le luna e mezza luna e mezza luna ebay Allora, oggi la partita è contro Verona, la stagione scorsa, scorsa, la stagione scorsa, la stagione scorsa, abbiamo pregiato, oggi è il Revenge Match, dobbiamo assolutamente, assolutamente vincere, contro Verona, dobbiamo, dobbiamo vincere, ok? Allora, formazione iniziale è Ospina di Lorenzo, Rachmani, Gesù, Mario Lui, Anguissa, Fabian, Polita, Zilinski, Isigne, Ossime! Ossime, oggi non può giocare il nostro Calidou, beh, per il cartellino rosso, mamma mia! Ma, Ossime e Insegni sono tornati! Vento la notte! Oggi ho visto la mania speciale per Diego Maradona, special edition, limited edition, Avete visto, no? Oggi gioca con questa mania, è buona idea, buona idea, grande, buona idea, ma il disegno, non mi piace, non mi piace. Questa, mi piace tanto, come Argentina, numero 10, dico prima, vabbè, speriamo, spero che sia, sia buona fortuna. Allora, oggi, Ossime, Fara, dobbietta, Isigne, San, un gol, allora, vincere, 3-0, 4-0, 4-0! Nappoli! Napposta! 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 attenzio mamma mia pericoloso chi è? Simeone? Oddio bravo Spinaccio oh 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 mamma mia cazzo Simeone mamma mia Mario cazzo si Fabi oh 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 child olore edgo dell'aczy olore auto bravo si poli vai uo si cazzo uo si man bravo bravo insegna ui ma che cazzo è l'arbitro e fallo è finito è finito primo tempo è finito 1-1 la partita è molto molto difficile veramente Verona gioca bene e noi senza Calidou è molto difficile è troppo difficile anche oggi stasera ha fatto ancora grande errore Mario Mario gennaio dobbiamo assolutamente prendere il nuovo terzino sinistro poi Verona numero 7 e numero 10 sono sempre liberi dobbiamo essere attenzione dobbiamo marcare questi due beh la partita è molto interessante è spettacolo forse forse osse fa grande gol allora forza neppoli La posta Bravo si Si Ui Ui Cazzo L'arbitro Oh Attenzione Uspi Vai Bravo Ehi Cazzo L'arbitro Chiavica Fanculo Stronzo Malarbito E' veramente Stronzo Vai Si Bravo Oh Si Uuuu No Ok Meritens Uuuu Oddio Si 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 Uuuu Tiu Uuu Peta 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 Nooo Ciu Mi nuut ee Peta 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 la partita è finita non abbiamo potuto vincere è pareggiato 1-1 l'ultima volta Mertens era bravo ma con questa partita non c'è parola perchè perchè l'arbitro è veramente stronzo chiabile mannaggia abbiamo potuto vincere veramente ok vabbè stasera fra poco ci sarà la partita delby delby in San Siro speriamo speriamo che sia pareggiato inter vinca non lo so allora for Napoli non lo so 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 non lo so